e così in sella la moto di Vanni Odera vi invito a visitare lo stand di Fiat Professional dove convivono sostanzialmente due mondi intanto lasciamo la moto di Vanni con il backdrop capovolto sullo sfondo e andiamo a vedere questi due mondi che convivono all'interno dello stand il mondo moto e il mondo bici il mondo moto con il ducato full electric che è disponibile in due configurazioni batterie da 47 kilowatt che permette di percorrere 235 km e il pacco batteria da 79 che permette invece di arrivare fino a 370 km prezzi a partire da 79 mila euro arriviamo a 102 mila euro più iva per la versione che percorre più chilometri alle nostre spalle invece lo scudo pensato per chi vuole avere un mezzo perfetto per portare anche le biciclette quindi sono due mezzi sostanzialmente pensati per il professionista ma anche per l'appassionato lo scudo è disponibile con batterie da 75 kilowatt che gli permettono di percorrere 330 chilometri e il prezzo di 53.500 più iva e allora io vi aspetto qui allo stand di Fiat Professional mondo moto mondo bici tra l'altro due mezzi anche allestiti internamente per vivere la passione e poi venite a farvi un bel self oppure una bella foto con la moto di Vanni così capovolti con un bel backflip ciao 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 ciao